Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. A che punto avrò sbagliato strada? Guido! E' bravo Guido! Che stai preparato? Qualcosa di bello? Guido! Guido! Dove corri, disgraziato? Guido! Puoi stare in campo? Vieni qua, buona! Ah, ma non è una parte che devo fare. Mi hai preso con la dita. Guido! Anche perché insomma mi crede io andare avanti così non ce la faccio più. Questo è un manicolo. Io, definitivamente. Oggi, penso che non ce la faccio più video non ce la faccio più. Laifornia si può fare. La nostra faccio più video è un'occazione. La nostra faccio più video è un'occazione. Lo, questa è una faccio più video è un'occazione qui non ce la faccio più video. Grazie a tutti.